Grazie a tutti, grazie per essere qui. Questa è una giornata che vuole riprendere un tema a noi molto caro, ma io credo caro anche ai cittadini italiani, che è il tema dei vitalizi. Sono 4 anni e 4 mesi, se non sbaglio, che siamo in Parlamento e se ci pensate bene, questo è un Parlamento composto da una maggioranza di governo che ha dichiarato in campagna elettorale e nei mesi successivi dopo la votazione di essere a favore dell'eliminazione di questo assurdo privilegio medievale che è il vitalizio agli ex parlamentari e non solo. Però, nonostante le dichiarazioni di facciata, dopo 4 anni e 4 mesi non si sa perché, ma stiamo ancora pagando il vitalizio a 2600 ex parlamentari. Allora, qual è il problema? Come mai dopo 4 anni e 4 mesi siamo ancora ad un punto morto? Qual è il motivo per cui? Come ci hanno fregato in questi mesi? Come sono riusciti a dichiarare continuamente e far credere all'opinione pubblica di essere a favore dell'eliminazione del vitalizio pur non facendo niente. Io credo, cosa hanno fatto di male i cittadini italiani per essere presi in giro in questo modo? Cerchiamo, allora iniziamo a cercare di capire cosa è successo in questo periodo, quali sono state le tappe di questa progressiva fregatura ai danni dei cittadini italiani. Quando siamo entrati in Parlamento nel 2013, come avevamo promesso agli italiani, abbiamo iniziato subito ad attaccare il problema e abbiamo presentato nel 2013, a settembre del 2013, una mozione che impegnava il governo a toccare non solo i vitalizi ma le pensioni d'oro. Era una mozione che toccava anche i vitalizi perché prevedeva di ridurre la quota retributiva e prevedeva di mettere anche dei tetti. Quella mozione è stata votata contro dal Partito Democratico. Ed è stato il primo atto che abbiamo portato in Parlamento. Non contenti, non ci siamo arresi, nel 2014, in occasione della presentazione del bilancio della Camera, il primo bilancio che discutavamo della Camera, un miliardo di euro, con dentro milioni e milioni di euro per i vitalizi, abbiamo presentato un ordine del giorno, noi del Movimento 5 Stelle, che prevedeva di mettere un tetto massimo ai vitalizi stessi. Volevamo evitare che ci fossero almeno quegli stipendi, quei vitalizi enormi da 9, 6 mila euro, 9 mila euro al mese che gridavano vendetta. Abbiamo messo come detto 5 mila lordi, 3 mila euro netti al mese, più o meno. Anche lì il Partito Democratico aveva votato contro. Ovviamente questo aveva fatto crescere l'indignazione popolare, si iniziava a parlare di questo scandalo. E quindi il Partito Democratico nel 2015, governo Renzi, inizia quella campagna di maquillage politico, che significa promettere una cosa e fare l'esatto contrario, fare qualcosa che non serve a nulla realmente, concretamente, e si inventano una delibera per poter dire all'opinione pubblica qualcosa che stiamo facendo. Cioè approvano in ufficio di presidenza una delibera che nelle dichiarazioni pubbliche dice di eliminare il vitalizio per gli ex parlamentari condannati, ma che di fatto si trattava semplicemente di una sospensione temporanea a pochissimi condannati. E infatti cosa è successo? Noi abbiamo votato contro quella delibera, il Partito Democratico non vedeva allora che votassimo contro per poter dire ai giornalisti ecco è il Movimento 5 Stelle che è contro l'abolizione dei vitalizi, non siamo noi, hanno votato contro. Noi abbiamo semplicemente detto, semplicemente, molto pacatamente, era una cagata pazzesca questa delibera, perché sospendeva il vitalizio, non lo eliminava, e infatti poche settimane fa la Camera dei Deputati ha dovuto restituire 200.000 euro a Massimo Abbatangelo, condannato a sei anni per violazione della legge sul controllo delle armi, che adesso prende 5.600 euro al mese di vitalizi. Abbiamo restituito 200.000 euro complessivi anche a Massimo De Carlis, condannato per corruzione, che adesso riottiene un assegno da 3.100 euro al mese e abbiamo restituito un totale di 46.000 euro a Giuseppe Astone, condannato a 5 anni di carcere per concussione. Quello che avevamo detto si è realizzato, era una presa in giro, perché alla fine, dopo la riabilitazione, questi si prendono non solo il vitalizio di nuovo, ma anche tutti i vitalizi che gli erano stati sospesi. Ma anche voi in quel caso, ve ne eravate accorti, voi giornalisti, perché poche settimane dopo l'approvazione, nel 2015, sto parlando del 7 maggio del 2015, di questa delibera, si scopre che si applicava a 10 ex parlamentari condannati su 1.543. La classica delibera renziana di facciata, la classica legge renziana di facciata. Una slide. Dentro non c'era nulla. E l'avete detto, l'avete comunicato. E questo ovviamente ha fatto scattare l'opinione pubblica sull'attenti. La cosa si è aggravata perché poco tempo dopo, era il 2015, se vi ricordate bene, si parlava di riforme costituzionali, bisognava modificare la Costituzione, e allora noi del Movimento 5 Stelle, il 20 maggio dello stesso anno, che cosa pensiamo bene di fare? Che siamo cattivi. Siccome volete cambiare la Costituzione, e ogni volta che proviamo a modificare i vitalizi, ci dite che è incostituzionale, abbiamo fatto un emendamento alla riforma costituzionale per eliminare i vitalizi in Costituzione. Così non può essere incostituzionale. Il Partito Democratico vota contro quell'emendamento, tra l'altro a prima firma Luigi Di Maio. Ovviamente l'opinione pubblica si scandalizza, perché noi che siamo cattivi lo diciamo sui social, c'è in tv, andiamo a dirlo in giro. E allora serve un'altra opera di copertura politica. E si inventano la mitologica legge Ricchetti. Il 20 maggio votano contro l'ordine del giorno, l'emendamento sulle riforme costituzionali, il 9 luglio si inventano la legge Ricchetti. Depositano una legge che prevede di ricalcolare tutti i vitalizi con il sistema contributivo. I vitalizi oggi noi eroghiamo una cosa tipo ad ogni parlamentare mediamente una pensione, un vitalizio che è nove volte superiore a quello che hanno versato. Nove volte superiore. E questa è una legge meravigliosa sulla carta. Ricalcola tutto quel contributivo. Tanto hai versato, tanto prendi. Siamo tutti contenti. Però noi sapevamo che quella legge serviva solamente per andare in tv e poter rispondere alla giornalista dicendo ma noi abbiamo la legge Ricchetti. Quella legge non sarebbe mai stata calendarizzata. Lo sapevamo. Siccome l'hanno depositata il 9 luglio del 2015 e noi siamo cattivi, abbiamo deciso di portare nell'agosto dello stesso anno, in occasione della nuova discussione sul bilancio della Camera, un ordine del giorno che prevedeva proprio la legge Ricchetti, il calcolo contributivo dei vitalizi, il ricalcolo contributivo dei vitalizi. Però questo avrebbe messo in difficoltà il Partito Democratico, perché avremmo costretto il Partito Democratico a votare contro la loro stessa legge che usavano come specchietto per le allodole. E allora qui interviene la Presidente Boldrini. Questa meravigliosa Presidente Boldrini che dichiara inammissibile l'emendamento, risolto il problema, non si vota, non si può votare. Allora, nel 2014, lo stesso ordine del giorno sui vitalizi, con il tetto massimo, era stato dichiarato ammissibile. Nel 2015, la legge Ricchetti, presentata anche dal PD, portata durante la discussione del bilancio, viene dichiarata inammissibile. Allora noi che siamo ancora più cattivi, l'anno dopo, nel 2016, presentiamo entrambi gli ordini del giorno. Presentiamo l'ordine del giorno con il tetto massimo, quello presentato nel 2014 dichiarato ammissibile, e presentiamo anche la Ricchetti, quello dichiarato inammissibile. Nel 2016, la stessa Presidente Boldrini dichiara inammissibili entrambi gli ordini del giorno, gli stessi. Allora, qui vorrei aprire una parentesi. Sarebbe molto interessante poter lavorare, se la Presidente, poter lavorare bene, provare a lavorare bene, se la Presidente Boldrini smettesse di essere la stampella del PD, e preoccuparsi di essere minimamente coerente nella gestione dell'Aula, piuttosto che degli interessi del PD. Questo a chiudo parentesi, perché lavorare così è veramente difficile. Ovviamente, tutto questo alimenta ancora di più il crescendo dell'opinione pubblica, che è contrario a questo atteggiamento della maggioranza. E il 2 aprile dell'anno successivo, siccome nulla stava cambiando, stiamo parlando del 2017, siccome ci accorgiamo che da lì a pochi mesi sarebbe scattata non solo il vitalizio degli ex parlamentari, ma anche i parlamentari attualmente in questa legislatura avrebbero maturato un nuovo vitalizio, che scatta dopo 4 anni e 6 mesi di legislatura, il 15 settembre del 2017. Allora, decidiamo di intervenire. Decidiamo di intervenire ancora, non ci arrendiamo, e portiamo non in Aula, ma in Ufficio di Presidenza, dove non ci sono 630 parlamentari, ma una ventina di parlamentari, e si vota senza burocrazia, per l'alzata di mano, due nuovi ordini del giorno. Un ordine del giorno che applica la Fornero agli attuali parlamentari, cioè quello che vale per i cittadini, vale anche per i parlamentari, e un ordine del giorno che sembra lo stesso, la legge Ricchetti. Ecco, il primo ordine del giorno, il PD vota contro, il secondo ordine del giorno, Ricchetti, viene dichiarato di nuovo inammissibile. Quindi capite il costante tentativo di perdere tempo, di trovare strumentalizzazioni, cavilli burocratici, per non togliere i vitalizi. E sapete qual è stata la scusa per votare contro l'applicazione della legge Fornero e anche parlamentari in Ufficio di Presidenza? Che serviva una legge, una legge ordinaria, una legge approvata dal Parlamento. Benissimo. Caro Ricchetti, caro Partito Democratico, calendarizza la tua legge che noi la votiamo. La risposta di Ricchetti è stata, e del Partito Democratico, non si può votare una legge in questo momento perché non c'è tempo. Votatevi un ordine del giorno, che avevano appena votato contro. Allora cosa facciamo? Questa è una saga infinita di quattro anni e mezzo. Che cosa facciamo? Decidiamo di non arrenderci per l'ennesima volta e rinunciamo ad un nostro diritto. Cioè il diritto di poter calendarizzare in quota opposizione nell'anno in corso una nostra proposta di legge. Avevamo in calendario la legge Lombardi, PDL Lombardi, e abbiamo deciso di rinunciarvi totalmente. Abbiamo detto Partito Democratico utilizzate voi quella possibilità, quel calendario, quel giorno del calendario in cui dovevamo discutere la nostra proposta di legge e discutete la vostra, la legge Ricchetti. Ci hanno detto di no, che non si poteva abbinare. Ora, qui una forza politica normale potrebbe anche andare a dichiararsi resa di fronte a questa burocrazia e questo atteggiamento da muro di gomma. Ci viene incontro invece in questo caso un mezzo di comunicazione, anzi una trasmissione televisiva conosciuta, che sono le Iene, a cui va dato adito di aver fatto un ottimo lavoro e hanno fatto un fact-checking. Hanno fatto quello che noi vi stiamo raccontando, hanno cercato di capire cosa era successo e sono andati a intervistare i protagonisti del PD di questa vicenda, di questa saga. E hanno chiesto con le telecamere accese, a Rosato e a Ricchetti, come mai non volessero calendarizzare la loro proposta di legge. Di fronte alle telecamere hanno fatto delle dichiarazioni e hanno detto va bene, le calendarizziamo, ve lo promettiamo. E dopo quattro anni, finalmente, la Commissione Affari Costituzionali della Camera dichiara che il testo Ricchetti verrà calendarizzato il 31 maggio del 2017. Questa è stata una dichiarazione che ci ha quasi preso alla sprovvista dopo quattro anni. Eravamo basiti, contentissimi, finalmente possiamo votare tutti, già pronti a brindare col Partito Democratico. quindi stavamo aspettando tutti quanti questo famigerato 31 maggio del 2017. Peccato che un'esigenza insormontabile di ragione di Stato fa slittare la data. Perché? Perché dobbiamo discutere la PDL sull'Umbria Jets Festival. L'Umbria Jets Festival è una cosa per cui si deve bloccare il Parlamento, rinviamo la legge sui vitalizi su cui lottiamo da quattro anni e blocchiamo la camera sull'Umbria Jets Festival senza nulla togliere l'Umbria Jets Festival ovviamente. E quindi anziché il 31 maggio slitta a giugno. Ormai pensavamo che nulla più fosse possibile, non ci fossero più scuse in questa saga, questo film del PD e la ricerca della scusa perduta fosse terminato e invece no. E invece no. L'ultimo capitolo di questo vincente film, di questa filmologia meravigliosa del PD interviene poche settimane fa. Perché qui entra in scena, colpo di scena, arriva la commissione bilancio e la ragioneria dello Stato. Ma siccome io emotivamente sono già provato dopo tutti questi quattro anni, quattro mesi, così, lascio la parola alla mia collega Laura Castelli e che vi spiega tecnicamente come la ragioneria dello Stato può bloccare o sta bloccando la discussione in aula di una proposta che è stata calendarizzata ma che non si può discutere. Cioè noi siamo di fronte oggi a una situazione in cui abbiamo una proposta di legge calendarizzata messa lì in calendario dalla Presidente Boldrini e della Commissione Affari Costituzionali ma che non possiamo discutere. E guarda caso cosa riguarda le banche. No, quella la discutiamo in una settimana riguarda i vitalizi degli ex parlamentari. Grazie. Sì, buongiorno a tutti. Beh, se la parte la cronistoria che ci ha raccontato il mio collega Fraccaro vi ha fatto sorridere quella tecnica è altrettanto bizzarra. Infatti stiamo parlando di una proposta di legge che di fatto è molto semplice. Parla di un passaggio per tutti quelli che sono passati da questi palazzi al metodo contributivo rispetto al calcolo del vitalizio. Parliamo di un metodo che è utilizzato per tutti i cittadini italiani dal 1996. Quindi stiamo parlando di una casta che di fatto ci mette più di 20 anni per applicare a se stessa la stessa metodologia di calcolo delle pensioni. E parliamo di una proposta di legge molto semplice che fa capire immediatamente che sicuramente ci saranno dei risparmi. ma quando anche qualcuno avesse il dubbio che questa proposta di legge potrebbe creare maggiori spese per questo paese nella proposta di legge stessa c'è una clausola di salvaguardia che dice espressamente tu parlamentare o ex parlamentare non potrai prendere più di quello che prendi oggi. Quindi stiamo parlando di un'assurdità che è andata in onda in questi mesi appunto dal 31 di maggio quando nella commissione bilancio il presidente che in quel momento era Fanucci deputato notoriamente Renziano lascia verbale testualmente la necessità di fare in fretta e chiedere al governo e quindi alla ragioneria di produrre il più presto possibile per necessità politiche una relazione tecnica. Oggi siamo al 17 di luglio e questa relazione tecnica non è arrivata. Ora nonostante la lettera ufficiale insomma della commissione al MEF quello che noi abbiamo fatto perché non ci piace essere presi in giro è aver scritto uno studio di fattibilità finanziaria quindi abbiamo detto facciamo noi calcoli che la ragioneria non sta facendo in questi mesi e stiamo parlando di alcuni dettagli tecnici dai quali non si esce perché i problemi sono di due nature da una parte i costi o i risparmi dell'erogazione dall'altra parte i costi di gestione dell'Inps perché come sapete la proposta di leggerichetti passa la palla di gestione di tutto questo pacchetto all'Inps come un cittadino normale quindi per i costi o i risparmi erogati parliamo di dati che devono essere acquisiti rispetto al cumulo con altre pensioni e questo è un dato che recupera l'Inps e i versamenti fatti oggi fino ad oggi in questo caso gli attori che dovrebbero mandare questi documenti sono la Camera e il Senato per i costi di gestione dell'Inps è molto semplice e questi dati vanno chiesti all'Inps quindi abbiamo questi tre attori l'Inps la Camera e il Senato questi tre attori di fatto sono quelli che danno i dati alla ragioneria per fare la relazione tecnica relazione tecnica per la quale io ricordo ma lo ricorderete anche voi ci vuole molto poco tempo quando si parla di documenti proposte di legge e decreti che interessano a loro addirittura delle volte ore quindi la ragioneria alcune volte il timbro lo mette in un secondo mentre delle altre ha perso il timbro probabilmente il dato interessante è che noi abbiamo provato a dire quanto può costare all'Inps questa gestione in più di questi circa duemila soggetti in più abbiamo fatto un calcolo a spanne parliamo di 175 euro a contribuente cioè l'Inps oggi fatti i calcoli di quello che costa la normale gestione spende più o meno circa 175 euro per ogni contribuente che segue quindi stiamo parlando di calcoli irrisori ora fa un po' ridere il fatto che ci siamo messi a fare questo calcolo ma per farvi capire senza voler sbeffeggiare nessuno ci mancherebbe che questa legge e questa relazione tecnica è veramente semplice questo è il motivo per cui oggi noi allungheremo brevi mano alla ragioneria di Stato perché vorremmo anche sapere se sono state fatte le dovute richieste per ottenere questi dati che vi raccontavo per poter impacchettare questa relazione insomma la commissione bilancio è una commissione seria che lavora in maniera seria e che non si può permettere di utilizzare sapendolo la ragioneria per frenare un processo che è quello che questa forza politica chiede da 4 anni e mezzo che chiedono tutti i cittadini perché è quello che oggettivamente vogliono avere un un normale essere normali tanto quanto i parlamentari quindi dopo 20 anni di un sistema diverso tra parlamentari ex parlamentari e cittadini noi ci auguriamo che anche oggi e nei giorni successivi si possa superare questo scoglio inesorabile della relazione tecnica che oggettivamente a noi ci fa un po' troppo sorridere buongiorno a tutti grazie a Laura e Riccardo per questo resoconto dettagliato e anche per spiegare come sia molto semplice eliminare una ingiustizia di questo tipo siamo a 6-7 mesi dalla fine di questa legislatura ed è chiaro che una forza politica di opposizione come la nostra deve decidere su cosa concentrare le forze una battaglia su cui concentreremo tutte le nostre forze da qui ai prossimi 6-7 mesi sarà senz'altro l'abolizione dei vitalizi agli ex parlamentari e l'abolizione della pensione agli attuali parlamentari lo faremo cercando in tutti i modi possibili di eliminare un istituto quello del vitalizio che prima ancora di far spendere soldi agli italiani prima ancora di rappresentare una spesa per lo Stato è un istituto è una cosa incostituzionale i vitalizi non sono costituzionali ce lo dice l'articolo 3 della nostra Costituzione e se vogliamo cominciare a ripristinare un po' di uguaglianza sostanziale in questo Paese dobbiamo abolire questo privilegio medievale lo faremo nei prossimi mesi lo faremo da oggi con un'azione che annuncerò alla fine di questo intervento ma lo faremo prima di tutto raccontando sempre di più agli italiani che cos'è questa indecenza i vitalizi in Italia riprendono 2600 ex parlamentari ci costano 215 milioni di euro all'anno e fra i politici più noti e famosi che conosciamo e che lo prendono ci sono Clemente Mastella 6939 euro di vitalizio al mese Luciano Violante 5.873 euro al mese di vitalizio Antonio Bassolino 2.998 euro al mese di vitalizio Claudio Scaiola 4.904 euro al mese di vitalizio Carlo Taormina 2.150 euro al mese di vitalizio Amedeo Laboccetta 1.593 euro al mese di vitalizio un certo Boneschi dopo un giorno in Parlamento 3.108 euro al mese di vitalizio poi abbiamo anche personaggi famosi che non possono essere proprio definiti politici Ilona Staller 2.231 euro al mese di vitalizio Vittorio Sgarbi 4.943 euro al mese di vitalizio Ombretta Ombretta Colli 3.460 euro al mese di vitalizio Eugenio Scalfari che ci fa la morale ogni giorno dalle colonne di Repubblica 2.269 euro al mese di vitalizio Fabrizio Del Noce 2.962 euro al mese di vitalizio e la chiudo qui con Gianni Rivera 5.205 euro al mese di vitalizio Con l'abolizione del vitalizio noi vogliamo risparmiare un miliardo e mezzo di euro per i cittadini in dieci anni ma soprattutto vogliamo ripristinare un po' di fiducia nelle istituzioni perché guardate che oggi un pensionato che prende 300, 400, 500 euro al mese di pensione minima prima ancora di voler risparmiare un po' di soldi per le casse dello Stato ci chiede di ripristinare un po' di giustizia perché altrimenti lui nelle leggi dello Stato non ci crederà mai più e il vero grande problema di questi anni di questa legislatura che tutti ci dicevano che dovevamo fare le riforme costituzionali per ripristinare un po' di fiducia tra i cittadini e le istituzioni è stato che mentre loro parlavano di riforme costituzionali c'erano personaggi come questi che continuavano a prendere questi vitalizi e che continuano a prenderli e altri personaggi che ambivano ad arrivare al vitalizio mascherato di settembre che è la pensione e se noi come istituzioni non diamo l'esempio poi si scatena un effetto domino come abbiamo visto in una inchiesta del Corriere della Sede qualche giorno fa che anche i sindacalisti cominciano a prendere esempio dai politici e si raddoppiano la pensione con degli escamotaggi interni ai loro regolamenti sindacali e poi alla fine chi è che rimane sempre fregato? Colui che vorrebbe prendere esempio vorrebbe aumentarsi la pensione minima il pensionato normale ma che non ha gli strumenti per poterlo fare perché non fa le leggi non si fa i regolamenti sindacali non si fa i regolamenti interni ai vari enti dello Stato e quindi non può aumentarsi la pensione e guardate che noi siamo impegnati a 360 gradi su questo tema se dovessimo andare al governo della Sicilia il 6 novembre perché il 5 novembre si vota in Sicilia per le elezioni regionali siciliane sicuramente uno dei primi provvedimenti sarà l'abolizione del vitalizio ai parlamentari dell'Ars ma i nostri parlamentari regionali dell'assemblea regionale siciliana hanno già rinunciato al vitalizio c'è un caso di nostro consigliere regionale che ha rinunciato al vecchio vitalizio che è Davide Bono in Piemonte che ha avuto accesso ad una consigliatura del consiglio regionale piemontese dove si accedeva ancora al vecchio vitalizio e vi abbiamo rinunciato e poi siamo impegnati anche in Parlamento Europeo perché in Parlamento Europeo qui si va in pensione come parlamentari a 65 anni dopo 4 anni e 6 mesi seduto su quella poltrona o anche non seduto su quella poltrona perché puoi fare anche il 100% di assenze e lo maturi in Parlamento Europeo basta un anno in Parlamento Europeo e a 63 anni vai in pensione qui ovviamente in Parlamento Italiano se ti rieleggono vai a 60 anni in pensione siamo impegnati a 360 gradi ma soprattutto siamo impegnati qui Riccardo Fraccaro vi ha raccontato tutti gli strumenti che abbiamo utilizzato fino ad ora per fargli abolire i vitalizi perché era una promessa che avevamo fatto i cittadini nel 2013 e in questa legislatura ci abbiamo provato in tutti i modi nessuno ci ha dato una mano Berlusconi fino ad ora gli unici pensionati che ha aiutato sono i suoi parlamentari assicurandogli il vitalizio e facendo in modo che Forza Italia si opponesse a tutte le volte in cui il Movimento 5 Stelle ha provato ad abolire i vitalizi e le vecchie pensioni e adesso siamo in questo cono d'ombra che è fantastico in cui il Partito Democratico per bloccare una legge del Partito Democratico chiede un parere al governo del Partito Democratico che non dà una risposta e quindi produce l'impasse la cosa che è veramente comica è che è sempre lo stesso partito che presenta una legge che impedisce di discuterla che chiede un parere al governo di quel partito a cui quel governo non risponde e quindi la legge non può arrivare in aula è una presa per i fondelli la Camera e quindi la Commissione Bilancio sta aspettando una risposta dalla ragioneria generale dello Stato ormai quanto è passato un mese da quando abbiamo chiesto alla ragioneria generale dello Stato ci devi solo dire se si spendono più soldi quanto si deve spendere in modo tale che noi possiamo portare in aula la legge Ricchetti e farla approvare ebbene la ragioneria dello Stato non ha risposto noi oggi alle 12 andremo alla ragioneria generale dello Stato gli porteremo anche il nostro studio di fattibilità ma soprattutto chiederemo alla ragioneria generale dello Stato a che gioco sta giocando anche lei perché ci aspettiamo da funzionari competenti ai quali riconosciamo il massimo della competenza una certa solerzia su un tema che oltre ad essere importante per le casse dello Stato e per le tasse dei cittadini è importante per ripristinare un po' di giustizia in questo Paese non ci stiamo a fermarci per noi sarà una priorità abbiamo sicuramente dimostrato che il Partito Democratico il Governo ma anche l'opposizione centrodestra i vitalizi non li vuole abolire e proprio per questo andremo avanti perché vedete nella prossima campagna elettorale delle politiche che tutti quanti stanno già preparando tutti quanti diranno di voler abolire i vitalizi tutti quanti diranno che le pensioni ai parlamentari sono un'indecenza nessuno si sognerà mai in un confronto tv di dire noi siamo per i vitalizi però alla fine conteranno i fatti e la credibilità se tutti diranno la stessa cosa e i fatti e la credibilità passano per una serie di provvedimenti che sono stati esaminati qui alla Camera e al Senato e che non sono mai stati approvati ma neanche discussi in alcuni casi quali sono le opportunità che ha il Movimento 5 Stelle per far saltare vitalizi e pensioni ai parlamentari prima di tutto l'incontro con la ragioneria generale dello Stato a cui diamo la massima importanza perché vogliamo capire un ente dello Stato a che punto sia su quel lavoro secondo abbiamo l'opportunità del bilancio della Camera e del Senato voi vi ricorderete che ogni anno negli ultimi 4 anni di questi tempi c'è sempre un parlamentare che si alza in aula degli altri partiti e dice noi non siamo pagati troppo dai cittadini noi non siamo metalmeccanici noi non siamo operai l'abbiamo visto l'anno scorso 2 anni fa 3 anni fa 4 anni fa anche quest'anno si discute il bilancio della Camera che significa discutere come si debbano spendere i soldi della Camera e del Senato all'interno di questo palazzo e anche lì ancora una volta presenteremo gli ordini del giorno al bilancio per provare a far saltare i vitalizi e a far saltare la pensione di settembre vedremo se i Presidenti di Camera e Senato vorranno ancora dichiarare inammissibili questi provvedimenti una cosa è certa non faremo finire questa legislatura lasciando qualcosa di intentato proveremo tutte le strade possibili per far saltare questa indecenza e lasciare un po' di uguaglianza dopo questa legislatura vi faccio presente che uno dei nomi che ho letto prima è Amedeo Laboccetta che prende un vitalizio di 1593 euro al mese e l'ha preso anche stando a Regina Celi qualche tempo fa e adesso forse rientrerà in Parlamento grazie alle dimissioni di Calabro di Forza Italia quindi prendeva il vitalizio glielo avete pagato anche per un periodo di detenzione adesso arriva in Parlamento gli si sospende il vitalizio e gli pagate lo stipendio per questa fine legislatura e magari si guadagna il posto per ricandidarsi alla prossima grazie grazie a tutti vai vai c'è una domanda c'è una domanda allora voglio specificare una cosa il tema dei vitalizi non sarà il tema della campagna elettorale perché quello è scontato per noi fa parte del programma speriamo che possa sparire dal nostro programma elettorale perché abbiamo risolto il problema prima delle elezioni politiche abolendolo in questa legislatura quindi i vitalizi saranno la battaglia di questa fine legislatura e ci proveremo in tutti i modi è chiaro che i temi invece per arrivare al governo di questo paese li sta decidendo il popolo dei nostri iscritti mettendoli all'interno del programma elettorale è un programma che è quasi finito a fine luglio sarà completato il programma di governo del Movimento 5 Stelle e poi ci siamo tra poco conoscerete anche gli interpreti di questo programma che saranno i candidati al Parlamento della Repubblica per la diciottesima legislatura e i candidati ministri il candidato presidente del Consiglio dei Ministri è chiaro che speriamo di poter arrivare alle prossime elezioni politiche avendo portato a casa anche l'abolizione dei vitalizi e l'abolizione della pensione ai parlamentari Buongiorno lei ha parlato giustamente di credibilità allora io le leggo uno stralcio di agenzia che in questi due giorni sui social ha fatto molto discutere e dice così non abbiamo ricevuto alcuna richiesta messaggio telefonato da Di Maio così fonti dell'ambasciata francese a Roma hanno smentito a margine del ricevimento a Palazzo Farnese il 14 luglio le dichiarazioni del vicepresidente della Camera secondo cui i tre canadei rinviati dalla Francia in Italia per contribuire allo spegnimento degli incendi nel sud Italia sarebbero arrivati grazie a una serie di telefonate da lui fatte a vari ambasciati dei paesi dell'Unione Europea quindi le chiedo lei ha mentito attribuendosi dei risultati che non sono venuti dalle sue azioni grazie in questo caso mente l'agenzia faccio presente che la mia terra sta bruciando ancora l'emergenza roghi non si è fermata anzi ieri si è rialimentata e quindi non ho nessuna intenzione di alimentare polemiche su questo tema se avete sentito l'Inps in tutto questo se avete avuto contatti sì abbiamo sentito il presidente che ci ha confermato la massima disponibilità rispetto a questo calcolo e ci ha comunicato anche che il governo e il ministero dell'economia e finanza e tantomeno la regioneria gli hanno fatto pervenire richieste di nessun tipo sui dati quindi è abbastanza sconcertante grazie 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 allora noi abbiamo fatto più volte per parlare della parte costruence proposte sì per abolire i vitalizi per abolire la pensione parlamentare ma quindi per sostituirla con un'altra disciplina che è quella della legge Dini e della legge Fornero applicata ai parlamentari noi abbiamo sempre detto quello che succede lì fuori deve succedere qui dentro abbiamo sempre richiesto questo quindi se lì fuori si applicano la legge Dini e Fornero per la disciplina pensionistica in materia pensionistica si applica anche qui dentro oggi ci sono due sostanziali dossier uno è quello dei vitalizi agli ex parlamentari e uno è quello del vitalizio mascherato che è la pensione attuale che scatta a 65 anni a 60 anni sul vitalizio agli ex parlamentari il concetto è molto semplice cioè devono aver versato dei contributi nella loro storia parlamentare e quei contributi gli vengono riconosciuti anche quando noi ci battiamo per l'abolizione delle pensioni d'oro noi chiediamo non che chi ha maturato una pensione debba essere privato di qualcosa ma chi non ha diritto a quella pensione così alta perché non ha maturato quei contributi non può raggiungerla quindi oggi il principio è quello che maturi qui dentro ti viene riconosciuto per la tua storia contributiva e quindi nella tua storia dei contributi che hai versato se arriverai all'età pensionistica con un tot di anni di lavoro un tot di anzianità come tutti i cittadini italiani anche tu parlamentare avrai diritto alla pensione come tutti gli altri e ti saranno riconosciuti questi contributi per farlo avevamo studiato anche dei metodi perché qui dentro c'era l'autodichia avevamo individuato degli strumenti li avevamo spiegato questo inverno quando abbiamo fatto la prima conferenza per presentare la proposta di delibera in consiglio in ufficio di presidenza e in generale la nostra idea di paese è quella in cui parlamentari grandi dirigenti delle partecipate di stato consiglieri regionali sindaci qualora ce ne fosse fosse necessario abbiano lo stesso trattamento dei cittadini comuni così forse anche i parlamentari vorranno abolire la pensione la riforma Fornero così anche i parlamentari capiranno che cos'è la legge Dini che cos'è la legge Fornero che sta massacrando i cittadini lì fuori anche i parlamentari capiranno che cos'è tutto il meccanismo che oggi priva un lavoratore usurante un lavoratore che fa un lavoro usurante di non andare in pensione in tempi certi in tempi brevi quindi tutti questi temi li vogliamo portare qui dentro cominciandoli a farli provare direttamente ai parlamentari prego Noi abbiamo appreso stamattina che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha deciso di rinviare a settembre la discussione dello Iusoli questo vuol dire che avremo più tempo in estate per abolire i vitalizi di rinviare a settembre di rinviare i vitalizi Grazie a tutti